trappola 7 finzione tentativo di essere brave normalizzazione dell'abnorme la bambina viene dunque castigata perché si è messa le scarpette rosse per andare in chiesa le guarda sullo scaffale in alto ma non le tocca ha cercato di fare a meno della sua vita anima però non ha funzionato ha cercato poi di condurre di nascosto una doppia vita ma neanche questo ha funzionato ora in un ultimo disperato tentativo cerca di fare la brava il problema con l'essere brave allo spasimo è che non risolve la sottostante questione dell'ombra che di nuovo si solleverà come uno tsunami come un'ondata gigantesca e ricadrà distruggendo tutto ciò che troverà sul suo cammino nell'essere brava la donna chiude gli occhi di fronte a tutto quanto è incallito distorto o nocivo all'intorno e cerca semplicemente di conviverci i suoi sforzi per accettare questo stato abnorme ledono i suoi istinti a reagire a sottolineare a cambiare a incidere su quello che non è giusto ann sexton scrisse della favola scarpette rosse in una poesia che ha lo stesso titolo sto nel cerchio nella città morta e infilo le scarpette rosse non sono mie sono di mia madre erano di sua madre passate come un bene di famiglia ma nascoste come lettere vergognose la casa e la strada cui appartengono sono nascoste e tutte le donne sono a loro volta nascoste lo sforzo di fare la brava di starsene tranquilla di essere compiacente di fronte al pericolo interiore o esterno o al fine di nascondere una situazione critica psichica o reale abbruttisce la donna la rende senza anima la separa dalla sua conoscenza e dalla sua capacità di agire come la bambina del racconto che non protesta a gran voce cerca di nascondere la sua fame e di fingere che nulla bruci in lei le donne moderne soffrono dello stesso disordine la normalizzazione dell'abnorme questo disordine imperversante nelle culture fa sì che lo spirito che normalmente balzerebbe su a correggere la situazione affondi nella noia nella compiacenza e alla fine come la vecchia signora nella cecità un importante studio ci fa comprendere la perdita dell'istinto autoprotettivo nelle donne all'inizio degli anni 60 alcuni scienziati condussero degli esperimenti su animali per scoprire qualcosa sull'istinto di fuga degli esseri umani in un esperimento collegarono una metà del pavimento di una grande gabbia in modo che il cane che vi era rinchiuso ricevesse una scossa ogni volta che poggiava una zampa sulla parte destra della gabbia ben presto il cane imparò a restare sulla sinistra poi fu collegata la parte sinistra della gabbia e sulla destra non si prendevano scosse rapidamente il cane si riorientò e imparò a restare a destra poi tutto il pavimento della gabbia venne collegato sicché ovunque si mettesse il cane prima o poi riceveva una scossa a tutta prima confuso il cane cadde poi in preda al panico alla fine rinunciò se ne restò sdraiato a ricevere le scosse quando arrivavano ma l'esperimento non era ancora finito venne aperta la porta della gabbia gli scienziati si aspettavano che il cane si slanciasse fuori ma non fu così pur potendo tranquillamente uscire il cane restava lì a prendersi qualche scossa gli scienziati ne dedussero che quando una creatura viene esposta alla violenza cerca di adattarsi sicché quando la violenza cessa o alla creatura è restituita la libertà il sano istinto di fuggire è fortemente ridotto e la creatura resta dov'è nei termini della natura selvaggia delle donne questa normalizzazione della violenza e quella che gli scienziati chiamarono poi impotenza appresa inducono le donne non soltanto a restare con il marito ubriacone con datori di lavoro che le insultano in gruppi che le sfruttano e le tormentano ma anche a sentirsi incapace di imporre le cose in cui credono con tutto il cuore la loro arte il loro amore il loro stile di vita il loro pensiero politico la normalizzazione dell'abnorme anche quando è chiaramente a proprio detrimento riguarda tutti gli aspetti della natura fisica emotiva creativa spirituale e istintiva le donne si trovano di fronte a questo problema ogni volta che sono stordite e indotte a limitarsi a difendere la loro vita anima da proiezioni invadenti culturali psichiche o di altro genere psichicamente ci abituiamo alle scosse che colpiscono la nostra natura selvaggia ci adattiamo alla violenza fatta alla natura sapiente della psiche cerchiamo di essere brave normalizzando l'abnorme e il risultato è che perdiamo la capacità di fuggire perdiamo il potere di influenzare gli elementi dell'anima e della vita che riteniamo preziosi quando siamo ossessionate dalle scarpette rosse tutte le cose importanti a livello personale culturale ambientale ricadono ai margini si dà una tale perdita di significato quando si rinuncia alla vita fatta a mano e allora ogni sorta di ferite alla psiche alla natura alla cultura alla famiglia e quant'altro a via libera il danno alla natura è concomitante con l'ottundimento della psiche umana non sono e non possono essere considerati fenomeni distinti e separati quando un gruppo dice che il selvaggio è proprio storto e l'altro gruppo afferma che il selvaggio è stato distorto qualcosa è decisamente storto nella psiche istintiva la donna selvaggia guarda la foresta e vede una dimora per sé e per tutti gli esseri umani eppure altri guardano magari la medesima foresta e la immaginano spogliata dei suoi alberi e si figurano con le tasche rigonfie di bigliettoni sono gravi scissioni nella capacità di vivere e lasciar vivere in modo che tutto possa vivere quando ero piccola negli anni 50 agli albori degli abomini perpetrati dall'industria e danni della terra una petroliera affondò nel bacino di chicago nel lago michigan il giorno dopo alla spiaggia le madri strigliavano i bambini con il fervore di solito dedicato ai parchè di legno perché erano tutti macchiati di petrolio il petrolio si diffuse in masse fluttuanti grandi come case quando sbattevano contro un molo si frantumavano e ricadevano sulla sabbia che le onde portavano poi sulla spiaggia per anni nessuno poté nuotare senza ricoprirsi di quella melma nera i bambini che costruivano castelli di sabbia trovavano grumi di petrolio gli innamorati non potevano più rotolarsi nella sabbia tutti soffrivano cani pesci uccelli persone grandi e piccole ricordo che ebbi la sensazione che la mia cattedrale fosse stata bombardata la normalizzazione dell'abnorme è quanto induceva le madri a ripulire i bambini dal petrolio e ad accettare poi i peccati delle fabbriche delle raffinerie delle fornaci ripulendo i figli il bucato le persone amate nel miglior modo possibile seppur confuse e preoccupate le donne recisero la loro giusta collera per lo più si abituarono alla loro incapacità di agire in caso di eventi traumatizzanti erano previsti i castighi formidabili per chi rompeva il silenzio fuggiva dalla gabbia sottolineava le malefatte chiedeva un cambiamento deduciamo da simili eventi accaduti nel corso della nostra esistenza che quando le donne non parlano quando non c'è un numero sufficiente di persone pronte a parlare la voce della donna selvaggia tace e tace il naturale e il selvaggio nel mondo tacciano i canti e le danze e le creazioni tacciano l'amore e le voci della consapevolezza a quei tempi e tuttora fin troppo spesso sebbene le donne fossero tutte contagiate dal desiderio di libertà selvaggia continuavano come dice silvia plat a restare legate alle loro lavatrici in quelle lavavano i loro panni in acqua troppo calda perché la si potesse toccare e sognavano un mondo diverso quando gli istinti sono danneggiati gli esseri umani normalizzano un assalto dopo l'altro atti di ingiustizia e di distruzione contro loro stessi i figli le persone amate la loro terra e persino i loro dei si rifiuta questa normalizzazione del traumatizzante e dell'abusivo ripristinando l'istinto leso allorché l'istinto è ripristinato torna la natura selvaggia integrale invece di danzare nella foresta con le scarpette rosse ai piedi finché la vita diventa una tortura insensata possiamo tornare alla vita fatta a mano alla vita memore possiamo rifare le nostre scarpette riprendere il nostro cammino parlare con le nostre parole se è vero che si impara molto dissolvendo le proprie proiezioni sei gretto mi fai male e guardando quanto si è gretti con se stessi come ci facciamo male la storia non finisce qui la trappola nella trappola è pensare che tutto sia risolto dal dissolvimento delle proiezioni e dal ritrovamento della consapevolezza talvolta è vero e talvolta no il paradigma da usare è ci sono una questione interna e una questione esterna tale paradigma consente un'inchiesta completa e molta più ripresa a tutti i livelli tale paradigma invita le donne a mettere in discussione lo status quo con fiducia e a non guardare solamente a se stesse ma anche al mondo che accidentalmente inconsciamente o con malvolenza fa pressione su di loro il paradigma e e non va usato come un modello per biasimare se stessi o gli altri ma è piuttosto un modo per soppesare e giudicare la responsabilità sia interiore sia esterna e quanto deve cambiare quanto deve essere richiesto abbozzato si ferma la frammentazione quando una donna cerca di accomodare tutto ciò che alla sua portata non trascurando i suoi bisogni né voltando le spalle al mondo in qualche modo molte donne riescono a conservarsi in uno stato di cattività ma vivono una mezza vita o un quarto di vita o persino una vita all'ennesima potenza ce la fanno ma spesso sul finire dei loro giorni diventano amare si sentono magari disperate e di frequente come un piccolino che ha pianto tanto senza riuscire a ottenere il conforto di un essere umano possono cadere in un silenzio mortale e nella disperazione seguono spossatezza e rassegnazione la gabbia si chiude trappola 8 la danza incontrollata ossessione e dipendenza la vecchia signora ha commesso tre errori di giudizio sebbene idealmente sia la custode la guida della psiche i suoi occhi sono troppo deboli per vedere la vera natura delle scarpe che ha acquistato non sa vedere la bambina che ne resta incantata nell'uomo dalla barba rossa che attende accanto alla chiesa quest'ultimo spiorando le suole delle scarpe comunica una vibrazione che costringe la bambina a danzare e addirittura a non potersi fermare la vecchia signora che dovrebbe essere la custode della psiche e la bambina che esprime la gioia della psiche sono separate dagli istinti e dal buonsenso la bambina ha provato di tutto ad adattarsi e a non adattarsi alla vecchia signora a fare la brava a perdere il controllo danzando a ritrovarsi e a tentare di nuovo di fare la brava ora la fame di anima e di significato la costringono a riprendersi le scarpette rosse e a dare inizio all'ultima danza una danza nel vuoto e nell'inconsapevolezza ha normalizzato la sua crudele esistenza arida intensificando così la brama nella sua ombra per le scarpette della follia l'uomo dalla barba rossa ha dato vita a qualcosa non si tratta tuttavia della bambina ma delle tormentose scarpette la bambina apprende a volteggiare lontano dalla vita e come accade nella dipendenza ciò non porta generosità speranza o felicità ma trauma paura spossatezza per lei non c'è riposo e volteggiando si avvicina un cimitero e lì uno spirito temibile non le permette di entrare e contro di lei pronuncia questa maledizione danzerai con le tue scarpette rosse finché non diventerai come uno spettro un fantasma finché la pelle non penderà sulle tue ossa finché di te non resteranno che visceri danzanti andrai danzando di porta in porta in tutti i villaggi e tre volte busserai a ogni porta e la gente guardando fuori ti vedrà e paventerà per sé il tuo fato danzate scarpette rosse danzate lo spirito pertanto la fissa in un'ossessione che assai simile a una tossicodipendenza l'esistenza di molte donne creative ha seguito questo modello nell'adolescenza genis joplin tentò di adattarsi ai costumi della sua piccola città poi si ribellò un poco e andò sulle colline a cantare accompagnandosi a dei cosiddetti artistoidi dopo i genitori furono convocati a scuola per via dei suoi comportamenti e allora iniziò una doppia vita assumendo un comportamento apparentemente normale ma scappando di notte per andare ad ascoltare il jazz andò al college si ammalò per abuso di sostanze varie fu corretta e riprovò a comportarsi normalmente poi ricominciò a bere riunì una piccola banda si buttò nelle droghe si rimise le scarpette rosse e prese a danzare fino a morire per overdose a 27 anni non furono la musica il canto o la creatività a uccidere genis joplin ma la mancanza dell'istinto necessario per riconoscere le trappole per saper dire basta per creare linee di demarcazione attorno alla sua salute e al suo benessere per comprendere che gli eccessi spezzano prima gli ossicini della psiche poi le ossa più grosse finché tutti i puntelli della psiche crollano e la persona diventa un ammasso confuso invece che una forza possente le era necessaria soltanto una saggia struttura interiore cui aggrapparsi un unico frammento di istinto che durasse fino al momento in cui avrebbe potuto avviare una lunga opera di ricostruzione del senso e dell'infinito interiori c'è una voce selvaggia che vive dentro tutti noi una voce che sussurra resta qui abbastanza a lungo resta qui abbastanza a lungo da far rinascere la speranza da far cadere il tuo gelo terminale da abbandonare le mezze verità e avanzare lentamente intagliare e conquistare un passaggio resta abbastanza a lungo per diventare forte tentare la prova che funzionerà resta qui abbastanza a lungo da arrivare alla finitura non importa in quanto tempo o con quale stile la dipendenza non è la gioia della vita a uccidere lo spirito della bambina in scarpette rosse ma piuttosto la mancanza di gioia quando una donna non si rende conto della sua fame delle conseguenze prodotte da sostanze mortali continua a danzare che si tratti di pensiero negativo cronico di rapporti insoddisfacenti di situazioni incresciose di droghe o alcol sono come le scarpette rosse difficile liberarsi dalla loro presa in questa dipendenza compensatoria dall'eccesso la vecchia signora arida della psiche svolge un ruolo di grande importanza per cominciare è quasi cieca si ammala resta immobile lasciando un vuoto totale nella psiche nessuno ora oppone il buonsenso agli eccessi poi la vecchia signora muore non lasciando nessuna base sicura alla psiche e la bambina danza prima in estasi con gli occhi levati al cielo poi esausta con gli occhi ricolmi di orrore nella psiche selvaggia stanno i più fieri istinti della sopravvivenza ma se una donna non pratica regolarmente le sue libertà interiori ed esterne la sottomissione la passività e il tempo trascorso in cattività offuscano i doni innati della visione della percezione della fiducia e di tutto ciò di cui ha bisogno per farcela la natura istintuale ci dice quando è tempo di dire basta è prudente e volta a conservare la vita una donna non può rifarsi di un'esistenza di tradimenti e ferite con eccessi di piacere rabbia o di niego la vecchia signora della psiche dovrebbe lanciare un avvertimento dire quando è venuto il momento di smettere nel racconto la vecchia signora è caput è fatta talvolta è difficile comprendere che stiamo perdendo i nostri istinti perché è un processo insidioso che non si realizza in un solo giorno ma in tempi lunghi inoltre la perdita o lo smorzamento dell'istinto sono spesso ampiamente supportate dalla cultura circostante e talvolta persino da altre donne che sopportano la perdita dell'istinto come un modo per riuscire a conquistare l'appartenenza a una cultura che non offre un habitat capace di nutrire la donna naturale la dipendenza inizia quando una donna perde la sua vita fatta a mano e ricca di senso per fissarsi nel recupero di qualcosa che le assomigli in qualsiasi modo nel racconto la bambina insiste nel tentativo di riunirsi alle diaboliche scarpette rosse sebbene le facciano perdere sempre più il controllo ha perso il potere di discriminazione la capacità di sentire la vera natura di una cosa poiché ha perduto l'originale vitalità vuole un surrogato mortale in psicologia analitica diremmo chi ha ceduto il suo se dipendenza e feralità sono connesse quasi tutte le donne sono state catturate almeno per un breve periodo alcuni per periodi interminabili alcune furono libere solamente in utero tutte perdono in quantità variabili l'istinto di sopravvivenza in alcune è danneggiato l'istinto che porta a riconoscere le persone buone e quelle che non lo sono e spesso la donna viene sviata in altre rallenta la capacità di reagire all'ingiustizia rendendole spesso martiri riluttanti esposte alla rappresaglia in altre ancora l'istinto alla fuga o alla lotta è indebolito e diventano delle vittime e l'elenco potrebbe continuare per contro la donna che conserva la sua giustamente selvaggia rifiuta la convenzione quando non arricchisce né è sensata l'abuso di sostanze nocive è una trappola reale droghe e alcol assomigliano molto all'amante che prima vi tratta bene poi vi picchia si scusa per un di nuovo con gentilezza e poi ricomincia a picchiarvi la trappola sta nel fermarsi a prendere il buono cercando di chiudere gli occhi sul cattivo è un errore non può mai funzionare genis joplin iniziò con l'esprimere i desideri selvaggi anche di altri cominciò a essere una sorta di presenza archetipa che altre temevano di assumere in prima persona si rallegrarono del suo atteggiamento ribelle come se lei potesse liberarle diventando selvaggia per loro genis fece un ulteriore tentativo per conformarsi prima di una lunga caduta unendosi alla schiera di donne potenti ma ferite che si ritrovarono a essere sciamani volanti per le masse anche loro esauste caddero dal cielo francis farmer billy holiday anne sexton silvia plat judy garland bessie smith edith piaf e frida calo purtroppo la vita di alcuni dei nostri modelli preferiti di donne selvagge e artiste è finita prematuramente e tragicamente la donna fera non è abbastanza forte per portare per gli altri un archetipo senza spezzarsi una donna fera è presumibilmente immersa in un processo di guarigione non chiediamo a una persona convalescente di trasportarci il pianoforte su per le scale una donna sulla via del ritorno deve avere il tempo di riprendere forza le persone trascinate dalle scarpette rosse inizialmente pensano sempre che qualunque sia la sostanza per la quale hanno sviluppato dipendenza in qualche modo le salverà talvolta da un senso di fantastico potere o il senso falso di poter vegliare la notte creare fino all'alba andare avanti senza mangiare oppure consente di dormire senza temere i demoni o calma i nervi o aiuta a non prendersela troppo per tutto ciò che si ama tanto o aiuta a non amare più e a non voler più essere amati alla fine crea soltanto come nel racconto un vorticoso volteggiare che non consente di vivere veramente la dipendenza è una baba yaga sconvolta che divora le bambine che si sono perdute e le getta sulla porta del boia in casa del boia tentativo di togliere le scarpe troppo tardi quando la natura selvaggia è andata quasi completamente distrutta nei casi più estremi è possibile che un deterioramento schizzoide e o una psicosi opprimano la donna d'improvviso non vuole più alzarsi se ne resta a letto oppure vaga per casa in vestaglia lasciando ovunque sigarette accese a consumarsi nei porta cenere oppure piange senza riuscire a trattenersi vaga per strada con i capelli arruffati d'improvviso lascia la famiglia per vagabondare pensa al suicidio e può uccidersi per caso o con determinazione per lo più è come se fosse morta non si sente né bene né male semplicemente non si sente che cosa accade alle donne quando i loro vibranti colori psichici si mescolano tutti insieme che cosa succede quando mescolate scarlatto zaffero e topazzi insieme gli artisti lo sanno quando si mescolano insieme colori vibranti il risultato è il color fango un fango sterile in colore stranamente morto che non emette luce quando sulla tela c'è il fango l'artista deve ricominciare tutto da capo ecco il momento difficile le scarpette devono essere tagliate fa sempre male troncare con la dipendenza dall'autodistruzione nessuno sa perché pensereste che la persona catturata dovrebbe sentirsi sollevata dopo aver svoltato l'angolo pensereste che si senta salvata al momento giusto che tenda a rallegrarsi e invece no di grigna i denti e scopre di essere lei a fare quel rumore si sente sanguinare sebbene non si veda neanche una goccia di sangue eppure questa sofferenza questa separazione questo non avere un piede su cui poggiare per così dire questo non avere una casa a cui tornare tutto ciò è quanto è assolutamente necessario per ricominciare da capo per tornare alla vita fatta a mano modellata da noi giorno per giorno con cura e attenzione è doloroso separarsi dalle scarpette rosse ma l'essere separati di colpo dalla dipendenza è la nostra unica speranza la separazione è una benedizione i piedi ricresceranno troveremo la nostra strada guariremo e ricominceremo a correre e a saltare quel giorno la nostra vita fatta a mano sarà pronta in questa scivoleremo e ci meraviglieremo della nostra fortuna di aver avuto un'altra occasione il ritorno alla vita fatta a mano guarigione degli istinti feriti quando una favola si conclude con la morte o lo smembramento della protagonista ci domandiamo poteva finire in modo diverso psichicamente dopo essere sfuggiti alla carestia è bene fare una sosta in un luogo in cui riposarsi e ristabilirsi possono essere necessari un anno o due per curare le ferite trovare una guida applicare i medicamenti considerare il futuro in fondo un tempo breve la donna fera è la donna che prende la via del ritorno sta imparando a svegliarsi a concentrare l'attenzione a smettere di essere ingenua disinformata riprende la vita nelle sue mani e per riapprendere gli istinti femminili profondi deve comprendere come avvenuto il disarmo se dopo le ferite inferte alla vostra arte o alle vostre parole al vostro stile di vita o ai vostri pensieri e alle vostre idee vi siete a volte in un maglione con tante maniche è arrivato il momento di sbrogliare il viluppo e andare avanti al di là dei desideri al di là dei metodi accuratamente ragionati di cui ci piace tanto parlare c'è una semplice porta che attende di essere valicata dall'altra parte ci sono piedi nuovi varcatela dunque strisciando se necessario smettete di fare chiacchiere e di lasciarvi ossessionare fatelo e basta non possiamo controllare coloro che ci mettono al mondo non possiamo influenzare il modo in cui ci educano né costringere la cultura a diventare immediatamente ospitale ma la buona notizia è che anche dopo una ferita anche in stato ferale perfino se già in stato di cattività possiamo sempre riprenderci la vita il piano psicologico per tornare a se stesse è il seguente stare ancora più in guardia e perdersi gradualmente nel selvaggio erigendo strutture etiche e protettive grazie alle quali avere degli strumenti per misurare l'eccesso di solito siamo già molto sensibili al troppo poco il ritorno alla psiche libera e selvaggia deve essere perseguito con coraggio ma anche con prudenza in psicanalisi ci piace dire che per diventare guaritori assistenti è altrettanto importante imparare che cosa non fare e che cosa fare il ritorno al selvaggio dalla cattività richiede un procedimento simile i tranelli le trappole e le esche avvelenate predisposti per la donna selvaggia sono specifici della sua cultura ho elencato soltanto quelli più comuni e diffusi le donne con differenti background etici e religiosi avranno altre e ulteriori intuizioni in senso simbolico componiamo una mappa dei boschi in cui viviamo segnaliamo i luoghi in cui vivono i predatori e ne descriviamo il modus operandi si dice che ogni lupa conosca tutte le creature che vivono sul suo territorio per chilometri e chilometri all'intorno è questa conoscenza che le consente di vivere il più liberamente possibile riconquistare l'istinto perduto guarire l'istinto ferito sono cose alla portata di tutte poiché questo ritorna quando una donna presta grande attenzione ascoltando guardando e sentendo il mondo circostante e poi agendo come vede agire gli altri con efficienza con efficacia con tutta l'anima la possibilità di osservare coloro che hanno gli istinti intatti è fondamentale per il recupero poi ascoltare guardare e agire in modo integrale diventa un modello che ha un suo ritmo da praticare finché non torna a essere automatico se la nostra natura selvaggia è stata ferita ci rifiutiamo di restare inermi ad aspettare la morte ci rifiutiamo di normalizzare la ferita convochiamo i nostri istinti e facciamo quel che dobbiamo fare la donna selvaggia è per natura intensa e ricca di talenti ma essendo rimasta separata dai suoi istinti è anche ingenua abituata alla violenza pronta ad adattarsi all'esilio amanti droghe alcol denaro fama e potere non possono riparare il danno mentre può farlo un graduale ritorno alla vita istintuale per questo la donna ha bisogno di una madre selvaggia sufficientemente buona indovinate chi è in attesa di essere questa madre la donna selvaggia si sta chiedendo che cosa aspettate a stare realmente con lei non qualche volta soltanto ma sempre quando si lotta per fare qualcosa a cui si attribuisce molta importanza bisogna circondarsi di persone che inequivocabilmente sostengono il nostro lavoro è nel contempo una trappola e un veleno avere cosiddetti amici che hanno le nostre stesse ferite ma non il desiderio vero di guarirle amici si fatti ci spingono ad agire al di fuori dei nostri cicli naturali al di fuori dell'armonia con i nostri desideri anima una donna fera non può permettersi di essere ingenua tornando alla vita innata deve considerare gli eccessi con occhio critico ed essere consapevole di quanto costano all'anima alla psiche all'istinto come i lupetti memorizziamo le trappole il modo in cui sono fatte e vengono messe ecco come rimanere libere comunque gli istinti non si ritirano senza lasciare ecchi e tracce da seguire per recuperarli se anche una donna è trattenuta nel pugno di velluto della proprietà e della critica è un passo dalla distruzione per i suoi eccessi o ha appena cominciato a buttarvisi può sentire i sussurri della dea selvaggia che ha nel sangue anche nelle pessime circostanze descritte in scarpette rosse perfino gli istinti più lesi possono essere guariti per raddrizzare il tutto risuscitiamo la natura selvaggia continuiamo a risuscitarla ogni volta che la bilancia pende troppo in una o nell'altra direzione sapremo quando c'è motivo di preoccupazione perché in genere l'equilibrio rende più ricca la nostra esistenza e lo squilibrio la immeschinisce una delle cose più importanti da fare è comprendere la vita come un corpo vivente in sé con il suo respiro con il suo rigenerarsi delle cellule con i suoi rifiuti sarebbe sciocco aspettarsi che il nostro organismo produca rifiuti soltanto una volta ogni cinque anni e sarebbe insensato pensare di non aver fame oggi perché abbiamo mangiato ieri è altrettanto fatuo pensare che un problema una volta risolto sarà sempre risolto e che avendo appreso saremo per sempre consapevoli la vita è un grande corpo che cresce e rimpicciolisce in zone diverse a ritmi diversi quando siamo come il corpo e facciamo l'opera della nuova crescita procediamo a stento attraverso la mierda respirando o riposando siamo molto vive siamo nei cicli della donna selvaggia se riuscissimo a comprendere che il lavoro consiste nel continuare a farlo saremo molto più determinate e pacificate per trattenere la gioia talvolta ci tocca lottare farci forza e scagliarci a testa bassa dare battaglia nei modi che consideriamo più astuti per preparare l'assedio forse dovremmo rinunciare a molti comfort dovremmo fare a meno per lunghi periodi di moltissime cose quasi di tutto ma non della nostra gioia di quelle scarpette rosse fatte a mano il vero miracolo dell'individuazione e della rivendicazione della donna selvaggia è che tutte noi avviamo il processo prima di essere pronte prima di essere sufficientemente forti prima di saperne abbastanza iniziamo un dialogo con pensieri e sensazioni che tintinnano e tuonano dentro di noi rispondiamo prima di sapere come parlare quella lingua prima di conoscere tutte le risposte e prima di sapere con chi esattamente stiamo parlando ma come mamma lupa che insegna i cuccioli a cacciare a stare accorti questo è il modo in cui la donna selvaggia zampilla attraverso le nostre persone cominciamo a parlare con la sua voce ad assumere la sua visione e i suoi valori ci insegna inviare il messaggio del nostro ritorno a quelli che sono come noi conosco parecchie scrittrici che tengono una scritta sulla scrivania e una che l'ha segnata su un foglietto infilato nella scarpa è tratta da una poesia di Charles Simic ed è l'istruzione fondamentale per tutte noi colui che non sa ululare non troverà la sua muta se rivolete la donna selvaggia rifiutate di farvi catturare con istinti affilati per l'equilibrio saltate dove vi pare ululate a volontà prendete quanto c'è scoprite tutto quel che lo riguarda lasciate che i vostri occhi mostrino i vostri sentimenti osservate ogni cosa vedete tutto ciò che vi è possibile vedere ballate con le scarpette rosse ma assicuratevi che siano quelle che avete fatto voi a mano a ognuna di voi posso promettere che diventerà una donna vitale grazie grazie